Da ieri e fino al 10 ottobre i treni speciali Barocco Line faranno la spola nei giorni festivi fra Siracusa e Donna Fugata nel Ragusano, toccando le stazioni di Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa, Ibla e Ragusa. L'iniziativa, voluta dalla regione siciliana e Trenitalia, è stata presentata alla stampa dall'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Marco Falcone. Sono ben 17 i collegamenti giornalieri previsti fra Siracusa e Donna Fugata. In aggiunta al Barocco Line è stata prevista anche l'introduzione di una coppia di treni aggiuntivi tra Siracusa e Noto, nelle giornate da lunedì al sabato, confermate a Fontane Bianche e Avola, dal 13 giugno all'11 settembre. Anche quest'anno il governo musumeci, in collaborazione con Trenitalia, ha voluto promuovere il servizio del Barocco Line. Trattasi di un servizio ferroviario che si effettuerà nei giorni festivi. Partirà il 13 giugno e si concluderà il 10 ottobre. Ben 17 collegamenti che partiranno da Siracusa, attraverseranno Fontane Bianche, quindi Avola, Noto, Pozzallo. Arriveranno appunto a Ragusa, Ibla, Ragusa e Donna Fugata. È un servizio che serve a tutti quei viaggiatori che vogliono esplorare la nostra Sicilia e soprattutto il suddeste della nostra isola, conoscendo il nostro patrimonio, le nostre bellezze e soprattutto il nostro meraviglioso mare. Abbiamo voluto riproporre questo servizio, l'anno scorso ha assordito un grande risultato, quest'anno riteniamo, con la ripresa dopo il coronavirus, di poter affermare una grande iniziativa che dia lustro, fama e soprattutto prestigio alla nostra Sicilia e ai nostri siciliani.